Ecco la nuovissima griglia a pellet di legno serie PRO 1600 di Pit Boss. La nostra griglia a pellet più grande finora con due ripiani di cottura superiori e un enorme spazio di cottura di 10.322 cm2 che la rendono l'ideale per trasformare il tuo giardino in un'incredibile area di intrattenimento. Grazie all'app Pit Boss Smoke It, che si avvale della tecnologia Wi-Fi e Bluetooth, puoi controllare le impostazioni della temperatura da 82 a 260 gradi Celsius, monitorare le sonde carni e molto altro ancora, comodamente dal tuo telefono, trascorrendo più tempo con amici e familiari senza compromettere la qualità del cibo. I pellet in legno duro naturale al 100% ti assicurano di ottenere con facilità il migliore aroma di fuoco di legna. Basta riempire la tramoggia, accendere l'unità, impostare la temperatura desiderata e lasciare che il calore a convezione forzata dal ventilatore faccia tutto il lavoro. L'innovativa versatilità di cottura 8 in 1 ti permette di affumicare, cuocere, brasare, arrostire, grigliare, fare il barbecue, cuocere alla carbonella e scottare, il tutto con un'unica unità. Diventa subito un mago della griglia. Con il pannello di controllo digitale PID di facile lettura, l'intervallo di temperatura a selezione rapida e le due sonde carni incluse, affumicare gli alimenti alla perfezione non è mai stato così semplice. La serie PRO 1600 include anche caratteristiche deluxe, come capacità della tramoggia di 14 kg con finestra di visualizzazione e sportello del pellet di facile pulizia, sistema di gestione della cenere estraibile, isolamento a doppia parete, griglie di cottura in ghisa rivestite in porcellana retinate per una perfetta cottura, ripiani di cottura superiori con struttura del forno, leva regolabile del parafiamma per l'accesso diretto alla fiamma fino a 538 gradi Celsius, inserto per piastra intercambiabile per un'opzione di cottura a piastra, un ripiano anteriore pieghevole, un solido ripiano laterale con porta utensili integrato e l'eccezionale garanzia di 5 anni di Pit Boss. Ogni griglia Pit Boss è realizzata in acciaio di spessore elevato, che la rende la più grande, la più calda e la più pesante della sua categoria. Questa è una qualità davvero notevole per una griglia che è destinata a un intenso utilizzo negli anni a venire.